Una West Pollese che attualmente è al terzo posto in classifica nel girone N, una Pollese che sicuramente dal canto suo ambisce a salire in prima categoria o quantomeno a puntare a quei campionati che una volta appartenevano alla squadra gialloverde. Siamo a febbraio, insomma qual è il bilancio dei primi sei mesi di attività di questa squadra giovane ma comunque piena di esperienza? Io penso che la Pollese in questo momento si trovi in una posizione molto importante perché se noi pensiamo che abbiamo iniziato a fare la preparazione 15 giorni prima dell'inizio della Coppa Campania significa che noi non eravamo nemmeno pronti a fare la squadra. Noi siamo in seconda categoria ma non per offendere la seconda categoria ma noi siamo in un momento di transizione. Io penso che in questo momento si è creato le basi per fare una società perché il calcio non è fatto di 11 giocatori ma di una società solida alle spalle che metta in condizione ai ragazzi di fare un bel campionato. Siamo al terzo posto come ho visto a 29 punti però siamo ancora in un momento strategico del campionato perché se noi pensiamo che a 35 punti c'è la prima in classifica, noi abbiamo iniziato a 15 giorni prima del campionato. Io penso che la Pollese in questo momento ambisca innanzitutto a mettere alla base una società, a vincere il campionato penso che quest'anno non è nei nostri programmi. È chiaro fare un campionato dignitoso, un campionato che mette in risalto la Pollese perché la Pollese ha una storia, la Pollese non è che nasce da un momento all'altro. La Pollese è una storia, siamo arrivati in eccellenza, abbiamo disputato due campionate di eccellenza, dopo dieci anni si è ripreso di nuovo questa tradizione e penso che in questo momento la società del presidente Criscuolo e del vicepresidente Curcio voglia innanzitutto creare i presupposti per creare una società forte e solida per poter puntare ad altri tipi di campionato l'anno prossimo. Grazie a tutti!